E' difficile, in una partita che vede impegnate due squadre in lotta per non retrocedere, assistere ad un buon livello di gioco, come invece si è visto nell'incontro tra Catani e Sampdoria. Infatti, specie nel primo tempo, le manovre scorrevoli, i capovolgimenti di fronte e le occasioni sono fioccate dall'una e dall'altra parte ed hanno dato all'incontro un aspetto molto vivace. Il Catania ha retto con disinvoltura fino al momento del gol, vale a dire fino al diciassettesimo minuto, quando il giovanissimo Biondi, con fredda esecuzione, ha portato la squadra in vantaggio. Poi il centrocampo Sampdoriano ha preso il sopravvento, Suarez, Corni e Lodetti sospingono in avanti un pallone dietro l'altro e creano le condizioni più ideali per le punte Cristin, Salvi e Fotia. Al ventisettesimo, questa veloce azione Lippi-Lodetti-Fotia con tiro finale di Lodetti, respinto sulla linea dallo stopper Reggiani, è il preludio al pareggio, che giunge due minuti dopo. Cherubini manca il rinvio su cross di Corni e Cristin tutto solo, tocca appena e pareggia il conto. Sospinta dalla propulsione dei centrocampisti, la Sampdoriano si porta in vantaggio a tre minuti dal riposo. E ancora di Cristin il pallone del 2-1, che Rado tocca di pugno senza tuttavia riuscire a deviare. Nella ripresa il Catania preme a lungo, ma con poche idee chiare. L'unico a salvarsi è Biondi. I suoi suggerimenti non vengono però sapientemente sfruttati. Quando mancano sei minuti al termine, Fotia beffa Rado cogliendolo fuori dai pali e portando così a tre le reti genovesi. Forse è un po' troppo per il Catania, la cui rabbiosa reazione si esaurisce con questo tiro di Bonfanti al lato di un soffio. Grazie a tutti.